Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio cammino di vita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sarà che benedizione sta arrivando per voi, quale nuovo capitolo, se vogliamo, positivo della vostra vita sta per entrare. Ho usato diversi mazzi di oracoli, quindi ho già mischiato ed estratto alcune carte e poi andremo a vedere anche con i tarocchi se c'è qualche messaggio in più. Abbiamo tre scelte, la prima scelta è questo turchese, la seconda scelta è questo calcedonio bianco e la terza scelta è questa ossidiana fiocco di neve. Potete sceglierne una, due o anche tutte e tre, magari ci sono dei messaggi che vi possono essere utili. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Eccoci cari amici del turchese, andiamo subito a vedere qual è il vostro primo oracolo. Il vento cambia direzione, quindi questa carta vuole mettere un pochettino l'accento su quello che è la mutabilità delle cose, delle situazioni, delle relazioni, è un po' come se ricordasse che il cambiamento è comunque quella che è una costante, insomma, della vita di tutti i giorni, no? E quindi dovete un attimino tenere in considerazione il fatto che le cose potrebbero cambiare o sono destinate comunque a cambiare, perché la vita è continuo cambiamento. La carta è un numero dodici, magari per qualcuno può avere un significato particolare. Quello che sento è che per certi versi bisogna sviluppare, se vogliamo, quella che per voi potrebbe essere una sorta di flessibilità, ok? Sento che per certi versi è un po' come se... magari qualcuno sta anche cercando di andare un po' controcorrente, mi verrebbe da dire, ok? Perché se ci fate caso la carta è il vento in questo senso e la zebra sta andando di là, quindi parla anche un po' di quello che è l'andare controcorrente, ok? Qui abbiamo... guarda le stelle ma cammina sulla terra, bellissimo! Quello che sento con questa carta è che praticamente vi stanno consigliando di essere un po' più concreti, se vogliamo, nel senso che è giusto puntare in alto, è giusto comunque avere degli obiettivi, dei sogni, avere comunque dei punti d'arrivo, avere dei progetti, però è anche vero che puntare troppo in alto poi non fa bene, perché comunque poi non si riescono a raggiungere i risultati che ci si prefiggono, quindi probabilmente qui state puntando un pochettino troppo in alto, quindi è giusto, diciamo così, puntare a 100 per ottenere 50, però ecco, tenete presente che la realtà, se vogliamo, è un po' più lenta o comunque potrebbe cambiare direzione, ok? Andiamo a vedere gli oracoli, wow! Dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia. Quindi io qui sento che probabilmente si tratta di una... qualche tipo di relazione più che una situazione. potrebbe essere che magari all'interno di questo momento, di questa relazione, ci sia un qualche tipo di discrepanza, mi verrebbe da dire, ed è per quello che abbiamo qui questa carta, guarda le stelle ma cammina sulla terra, cioè va bene appunto puntare in alto, però cercate di rimanere realisti, no? Il vento cambia direzione parla appunto di quello che è un continuo cambiamento, quindi è anche quello che è magari la stabilità o l'instabilità di una relazione, potrebbe essere che arrivi a cambiare. Il punto è che bisogna avere fiducia, bisogna dare una possibilità a questo tipo di relazione, bisogna appunto lavorare sulla coppia. Qui abbiamo intenzioni pure. Quindi, quello che vi consiglia questa fatta, diciamo, è di manifestare i vostri desideri con l'intenzione più pura, per il bene di tutti. Cioè, qui ho un po' l'energia di qualcuno che vuole assolutamente raggiungere un obiettivo, vuole che le cose vadano come dite voi, fondamentalmente, però in realtà non ci siano delle intenzioni pure. Magari per qualcuno si tratta di, come vi posso dire, di smussare un pochettino gli angoli, di cercare di capire qual è la vostra vera intenzione inerente a questa situazione o a questa relazione. Cercate sempre di usare quelle che sono le vostre intenzioni pure, perché ricordatevi che il vento cambia. L'ultima carta, scusate, è la carta del navigatore. Quindi può parlare di quello che è un viaggio, di quello che è un allontanamento, uno spostamento, magari un trasferimento anche, e parla anche di qualcuno che arriva o che se ne va. E mi viene un po' in mente, di nuovo, questa prima carta qui, il vento cambia direzione. Quindi fate attenzione anche a tenere la sticella troppo alta, a volare troppo in alto, diciamo, perché qualcuno se ne potrebbe andare. Può anche fare riferimento a qualcuno che arriva. Quindi magari è una persona con la quale avete bisogno di lavorare a livello di relazione. Però quello che sento è che c'è un cambio. Questa carta parla proprio di quelli che sono i cambi di direzione. È giusto avere gli obiettivi, guardare delle stelle, però certe volte bisogna un attimino cercare di capire quali sono le proprie intenzioni e cercare appunto di focalizzarsi su quelle che sono le intenzioni più pure per il bene collettivo, per il bene comune, non solo per il vostro bene. Andiamo a vedere i tarocchi, che cosa ci dicono, se hanno qualche altro consiglio da darci su questa situazione o su questa relazione. Per gli amici del Turchese, che altri messaggi ci sono? Wow, sono volate! Abbiamo il matto, il quattro di spade, ancora una. Allora, con il matto sento che c'è la voglia di chiudere un cerchio. Il matto è la fine di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo, ok? C'è qualcuno che ha voglia, per certi versi, di fare quello che è un movimento in avanti. Il matto mi parla anche di quello che è la fiducia, eh? Quindi, per certi versi, il consiglio delle carte è di avere anche un po' fiducia, di dare una possibilità a questa relazione, di lavorare su quella che è la coppia, ok? Ma con intenzioni, appunto, pure. Il quattro di spade mi parla di un qualche tipo di momento, se vogliamo, necessario per riflettere. Il quattro di spade è un'energia che parla di ricaricare le pile, parla di quello che è un isolamento volontario, anche proprio, alle volte parla anche proprio di degenza, magari in ospedale o per recuperarsi da una malattia. È un periodo di isolamento che serve comunque a riflettere, serve a ricaricarsi, serve a rigenerarsi, serve a trovare una nuova energia, una nuova forza. La stesa poi finisce con un asso di coppe e sento che qui l'asso di coppe è un nuovo tipo di inizio. Molte volte parla anche di quello che è l'innamoramento, quindi potrebbe esserci, diciamo anche così, una nuova fase in quello che è questo tipo di relazione di cui mi parla questa carta, ok? Comunque sì, parla di un nuovo inizio, parla di abbondanza, parla di innamoramento, parla della nascita di un qualche cosa e avendo anche il matto, sento che si avvicina a quello che è un nuovo... Scusate, oggi non so che cosa... si avvicina a quello che è un nuovo periodo abbondante, pieno di affetto, ricco. Sento che comunque è un nuovo inizio, quella benedizione che sta arrivando per voi, tenendo sempre presente che bisogna fare questo tipo di lavoro, quindi bisogna cercare di non pretendere troppo anche e mi parlano di mettersi nei panni degli altri, quindi probabilmente potrebbe aiutarvi il fatto di mettervi nei panni dell'altra persona in modo da cercare di capire il perché di certe reazioni, di certi gesti o di certe parole, ok? Bene, sono belle carte, devo dire. Voglio darvi ancora un messaggio finale da parte delle Fatine, vediamo che cos'altro hanno da dirvi. per gli amici del Turchese, un ultimo messaggio o consiglio. Consapevolezza, bellissimo, guardate la Fatina ha un cuore in mano, quindi è una presa di coscienza, ok? Di tutto questo discorso qui che abbiamo appena fatto. E rispetto. In questo caso è vero, il rispetto è una questione di rispettare gli altri, rispettare gli spazi degli altri, cambiamenti degli altri, ok? Però in questo caso la Fatina sta facendo un bagno, quindi qui si parla di auto-rispetto, auto-coccola, di amor proprio. Quindi imparate prima di tutto a rispettare voi stessi in questo tipo di momento, in questo tipo di situazione di cambiamento e vedrete che poi anche gli altri inizieranno a rispettare voi, ok? Bene, cari amici del Turchese, questo è quello che avevo per voi. È una bellissima stesa, devo dire, perché con questo osso di coppa alla fine mi dà un sacco di speranza. Spero che abbia risuonato, scrivetemi nei commenti, se avete bisogno di contattarmi trovate l'email in descrizione, io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video, ciao ciao! E andiamo avanti con gli amici del calcedogno bianco. Bene, andiamo a vedere la prima carta per voi qual è? Andiamo a vedere anche la seconda, visto che ne sono uscite due per questo gruppo. Riparare. Allora, quello che sento qui è che, allora la carta del riparare, che è un 52, potrebbe esservi utile come numero, parla di quello che è un aggiustare, parla di quello che è un ricucire, un rattoppare, un ricucire, sì. Sento che anche perché la fatina è seduta su una rocchetta di filo e ha l'ago in mano, non so se si vede. Quindi è proprio una questione di ricucire un qualche tipo di... A me verrebbe in mente il cuore. Sapete quelle immagini di qualcuno che cuce il cuore, no? È un po' quello il senso di questa carta. Sento che qui c'è bisogno di perdonare qualcuno e il punto è che bisogna chiedersi perché si sta agendo in quel determinato modo. Probabilmente c'è stato un qualche tipo di screzio, una discussione, magari un litigio, piuttosto che una diversità di punti di vista, insomma, o qualche torto ricevuto o subito, o dato, scusate. Quindi qui sento che è importante cercare di capire il perché vi state comportando in questo modo, il perché di certi atteggiamenti, il perché di tutta questa situazione che è successa e poi mi parlano appunto di riparare, cioè di perdonare, di aggiustare un qualche tipo di relazione piuttosto che di situazione, cercare di capire anche l'altra persona, mi verrebbe da dire. Questa carta, allora questo è il numero 52, magari qualcuno può essere utile, e questo è il numero 31. La carta del riparare, quello che sento io, è che si tratta di perdonare. E' vero gli altri, ma anche voi stessi, soprattutto voi stessi, perché prima di tutto io credo che si debba perdonare se stessi, poi si riesce in qualche modo a perdonare gli altri, ok? E poi abbiamo, wow, tu sorridi e il mondo cambia. Quindi questa carta vi vuole mettere un pochettino l'accento sul fatto che bisogna un attimino guardare la vita con un pensiero positivo, no? La vita è come uno specchio, come dentro e fuori, si dice, no? E' come sopra e sotto. Quindi nel momento in cui noi sorridiamo e portiamo energie positive, vibrazioni positive al di fuori, quello che riceveremo saranno energie positive. Quindi se tu sorridi, diciamo sorridi al mondo, il mondo cambia, perché si inizia a vedere il mondo con altri occhi. Ed è anche un po' questo il discorso che, cioè, il perché mi sto comportando così, perché è successo questo, perché è andata così, perché mi sono incapponito, incapponita in questo tipo di situazioni, in questo tipo di discorso, che funziona, diciamo, questo tipo di di situazione. E quindi qui consigliano proprio dello, ok, cercate di guardare la vita con uno spirito un po' più positivo, un po' più allegro, anche un po' più leggero, se vogliamo, e vedrete che il mondo comunque cambia, farà quello che è un cambio. Imparare a vedere il mondo con occhi diversi aiuta a cambiare, diciamo, la vostra percezione della realtà. Questa carta dice, tieni la mente aperta. La tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Quindi, se qui si tratta di quello che era una discussione con una persona, diciamo, a livello romantico, ricordate che comunque le anime gemelle non parlano sempre solo di relazioni romantiche, parlano anche di quello che sono delle relazioni che potrebbero essere tra, magari, due parenti, due amici, magari qualche tipo di relazione che avete sul lavoro, perché le anime gemelle sono anime con la quale contrattiamo determinate lezioni di vita che poi in questa vita impariamo attraverso queste anime, appunto. Quindi, quello che sento qui è che probabilmente qua c'era una sorta di dubbio, se vogliamo, per quello che riguarda questa relazione con questa persona che probabilmente dovete perdonare, no? E qui questa carta vi dice guarda che la tua anima gemella non è esattamente come te lo aspetti. Abbiamo più anime gemelle, no? Nella nostra vita. Cioè, siamo destinati a incontrare più anime gemelle. E quindi potrebbe essere che ve l'aspettiate in un certo modo, o meglio, mi parlano di avere un qualche tipo di aspettativa, come se voi aveste l'aspettativa che la vostra persona deve essere ideale, insomma, deve essere fatta in un certo modo, e invece questa carta vi dice tenete la mente aperta, perché non è detto che la persona che voi immaginiate sia quella che arrivi per voi, e non è detto che la persona con la quale avete avuto magari questo screzzo, non sia la persona giusta per voi. Andiamo a vedere questa carta. Wow, chiedi per un aiuto. Allora, qui queste carte, o scusate, queste carte, questa carta praticamente parla di quello che è chiedere un aiuto di tipo terreno, quindi magari a qualche amico, a qualche persona con la quale magari possiate avere un confronto e chiarirvi, insomma, un attimo questo tipo di situazione, oppure parla proprio di chiedere quello che è un aiuto di tipo divino. Tutti, tutti, a partire dalla nascita, da quando si nasce, si ha almeno uno spirito guida, un angelo custode, diciamo, almeno uno. Poi nel corso della vita si tende, aumentano, diciamo così, poi dipende anche molto dal momento di vita che si sta affrontando, e dall'età, e dal tipo di evoluzione spirituale. Comunque, uno sicuro ce l'abbiamo tutti. Ce lo danno così di default nel pacchetto. Ok? Quindi, quello che dice questa carta è chiedete anche aiuto a quelle che sono le forze celeste, a quello che è l'universo, a quello che è il cosmo, madre terra, a quello in cui voi credete, ok? Però, ecco, il punto è che questo tipo di entità, questo tipo di esseri, diciamo, questo tipo di luce, perché alla fine sono esseri di luce, aiutano solo nel momento in cui glielo chiediamo. Quindi, chiedete aiuto e poi rimanete, come dire, attenti a quelli che sono i segnali, perché, diciamo così, che l'universo risponde sempre, però dà delle risposte in base al grado spirituale che uno ha, perché se una persona magari è in un momento di bassa attività energetica o comunque in un momento in cui non è proprio ancora, non ha ancora una consapevolezza grande, magari darà segnali che sono, diciamo, a livello di comprensione di quella persona, perché se quella persona riesce a capire fino a tre, non gli daranno messaggi da dieci, perché non riesce a interpretarli, non riesce a vederli. Quindi, comunque, l'universo comunica sempre con noi. Si tratta, appunto, di decifrare quelli che sono i segnali. Andiamo a vedere l'ultima carta. Wow! La carta del tesoro, lo scrigno. Quindi, arrivano ricchezze. Possono essere ricchezze materiali, perché comunque abbiamo lo scrigno, ma io sento che qui sarà una sorta di saggezza che voi imparerete. Sarà un andare oltre. La benedizione qui potrebbe proprio essere riuscire a perdonare voi stessi o qualcun altro, ok? Il fatto di capire che probabilmente le cose non sempre vanno come noi le vogliamo, non sempre le cose sono come noi ce le aspettiamo, ok? Però, guardate, avete la carta dello scrigno alla fine, quindi sicuramente un qualche tipo di ricchezza arriva, che sia monetaria, che sia di amore, quindi un'abbondanza di amore. Magari riuscite a fare pace con questa persona e riuscite a creare un nuovo tipo di rapporto, un nuovo tipo di legame, ok? Però, comunque, vedo che le carte sono belle, sono belle carte, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi se riesco a dirvi qualche cosa di più. Andiamo a vedere un consiglio per gli amici del calcedonio. Allora, abbiamo il 3 di bastoni, l'8 di spade, il 4 di bastoni e il re di pentacoli. Allora, io qui, è come se le carte vi dicessero, ok, vai oltre, lascia stare tutti quelli che sono i pensieri, tu vai oltre quello che è stato qui, il motivo, diciamo, di quello che è il dover perdonare qualcuno, no? È un po' come se dicessero, appunto, vai oltre tutti questi pensieri, lasciali proprio perdere i pensieri, non servono a niente, perché il tipo di pensieri che avete in questo momento sono pensieri autoboicottanti e non sono utili. Anzi, lasciando indietro questo tipo di pensieri si arriva a quello che è il 4 di bastoni, che è un'unione felice, fondamentalmente. Il 4 di bastoni è, diciamo, quello che è la famiglia, se vogliamo, unita, la famiglia felice, la famiglia anche con figli, si parla di celebrazione. E il re di pentacoli, alla fine, mi dà proprio la sensazione che, diciamo, al termine di questo periodo, ricordo che avete anche lo scrigno, e qui è un re di pentacoli, quindi sghei, mi parla di una vostra stabilità, di una vostra presa di potere, di una vostra stabilità economica, materiale, magari riguarda proprio quello che è la casa, una stabilità materiale a livello di unione felice, a livello... Io sento che appienerete quello che è il tipo di discussione che c'è stato, ok? Se c'è stato. Magari non risuona per tutti questa stesa, anzi, scrivetemelo nei commenti che sono curiosa, ok? Quindi, belle carte, alla fine, quello che arriva, sento che è il perdono, che sia da parte vostra, o magari siete voi che dovete essere perdonati, ok? Però, ecco, diciamo che questa zona, se vogliamo, della lettura, è un po' come se dicessi, ok? Tenete la mente aperta, comunque rimanete su quelle che sono le vibrazioni positive, cercate di tenere alte le vostre vibrazioni e vedrete che il vostro tesoro lo troverete. Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fate per vedere che cosa vi dicono, per chiudere la lettura. Io intanto vi ricordo che se avete bisogno di contattarmi potete trovare l'email nella descrizione del video qui sotto. Abbiamo realtà, wow, questa è una bella botta, perché? Perché? Qui abbiamo la carta dei perché. Perché pensate questo? Perché avete reagito così o reagite così? Perché avete questo tipo di credenza? Guardate la realtà. La fatina, ok? Si sta specchiando e mi ricordo un po' l'energia della carta della luna, questa, nel senso che quando ci si specchia, l'immagine dello specchio non è mai uguale a quella della realtà, ma ci sono sempre delle proiezioni, Quindi fate attenzioni alle proiezioni della mente, tenete la mente aperta, ok? Sento che qui è come se ci fosse una sorta di aspettativa che non, come dire, che non rispecchia quello che è la realtà per certi versi. e poi qui abbiamo la carta del non giudizio. Quindi ecco, a parte che è difficilissimo non giudicare e la sento un po' legata anche qui con questa carta, però quello che sento di dirvi è di non giudicare voi stessi. Perché mi sono comportato comportata così? Perché ho fatto questo? Perché ho lasciato che succedesse questo? Cosa di questo genere, ok? Io, guardate, io per scaricarmi diciamo così il peso da dosso, quando ho dei sensi di colpa parto dal presupposto che l'universo ha disposto così. Cioè, se doveva andare così, cioè se è andata così e perché doveva andare così. Quindi, che senso ha farmi i sensi di colpa? Nessuno. Perché se anche io avessi fatto qualche cosa di diverso, l'universo ha predisposto che le cose andassero così. Per cui io non ci potevo fare niente per certi versi. E vi dico che personalmente a me il senso di colpa lo allevia. Provate e poi me lo scrivete nei commenti, ok? Bene, cari amici del Calcedonio, io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao. E proseguiamo con gli amici dell'Ossidiana Fiocco di Neve. Andiamo a vedere subito il primo oracolo. Wow! L'isola del tesoro! Wow! Ma è una bellissima carta per cominciare la lettura. Allora, l'isola del tesoro vuol dire che siete vicini al vostro tesoro. Probabilmente o lo avete già trovato o state andando verso quello che è il vostro tesoro. O meglio, per qualcuno potrebbe essere che si sia identificato che cosa potrebbe essere il vostro tesoro. diciamo un po' l'obiettivo, se vogliamo. Io sento che qui c'è qualcuno che sta facendo o ha fatto quello che è un lavoro diciamo così di tipo meticoloso che è andato avanti piano piano. Questo tesoro ingroppa una tartaruga che indica comunque lentezza. Ma sento che è un percorso appunto lento ma stabile che vi porta verso quello che è una ricchezza. Può essere proprio una ricchezza di tipo materiale, economico, magari un flusso di soldi che arriva, un regalo, un dono, una vincita o potrebbe essere diciamo così un tesoro in senso un po' più astratto come per esempio un'amicizia, una relazione o qualche cosa per lo stile. Ok? Andiamo a vedere quest'altro arcano cosa dice. Non cercare la verità, smetti semplicemente di avere opinioni. Quindi qui quello che sento mi dicono la verità è relativa quindi per certi versi la verità è soggettiva. Quando io faccio i video dico sempre questa è la mia verità non quando faccio i video di tarocchi quando faccio gli altri video diciamo di i tutorial piuttosto che i corsi piuttosto che io dico sempre questa è la mia verità che è creata da quello che è il mio lavoro la mia esperienza sia diretta che indiretta. Quindi quello che dico è che non è detto che la vostra sia la verità giusta anche per gli altri la vostra verità è giusta per voi gli altri hanno comunque la loro verità fatta di studi esperienze lavori principalmente esperienze fondamentalmente perché ognuno si crea diciamo così anche quello che è il carattere la personalità in base alle esperienze che si sono vissute durante la vita però qui non si tratta di capire chi ha ragione non si tratta di capire dove è la verità o chi chi delle due persone più vicino al vero si tratta semplicemente di accettare che ci sono diversi tipi di verità non c'è una verità assoluta ok ed è questo che vi dice la carta smetti semplicemente di avere opinioni quindi non schierarti da un lato o dall'altro semplicemente prendi la cosa come un dato di fatto senza dire è più giusto di qua o è più giusto di là sono semplicemente due verità diverse che hanno sviluppi e conseguenze diciamo così diverse ok mi parlano di una scelta come se ci fosse qualcuno che deve andare da una parte o dall'altra andiamo a vedere che cosa di wow matrimonio quindi potrebbe essere questa la vostra isola del tesoro magari qualcuno riceve una proposta di matrimonio magari una proposta di andare a convivere o magari visto che comunque la definizione della carta dice questa istituzione include il matrimonio potrebbe essere un qualche tipo di situazione all'interno della vostra coppia all'interno di questo matrimonio ok bellissima carta poi abbiamo fairy spotting qui parla di stare attenti dice state attenti a quelli che sono i segnali se vogliamo e dice che per certi versi è vero che per credere in qualche cosa bisogna vederla fisicamente ma è anche vero il contrario cioè che per vedere fisicamente qualche cosa bisogna prima iniziare a credere perché sappiamo che il pensiero crea quindi se lo credi crei per cui è un po' come se vi invitasse a visualizzare quello che sono i vostri sogni il vostro tesoro fondamentalmente ok quindi focalizzatevi su quello che volete perché è quello che sta entrando nella vostra vita dovete solo trovare l'obiettivo e puntare l'energia lì andiamo avanti lo zodiaco e il castello wow allora lo zodiaco parla di quello che è se vogliamo il tempo che passa mi viene da dire ok questa carta dice abbiate maggior fermezza e volontà nelle vostre risoluzioni e ne avrete vantaggio quindi affrontate tutto quello che è questo periodo con calma perché ripeto non esiste solo la vostra di verità esistono anche le verità degli altri che possono essere valide anche se sono discrepanti dalle vostre ok si tratta scusate si tratta qui di accettare appunto quello che è la diversità se vogliamo e poi il castello e quindi qui dice allora a me dall'impulso di una casa ok la carta dice che dovete dominare il vostro il vostro ardore la vostra passione il vostro fuoco diciamo per riuscire meglio in quello che voi volete per la serie state calmi respirate che con la calma con il miele si attirano più mosche che con non mi ricordo più com'era il proverbio comunque il discorso è quello fondamentalmente ok quindi sento che molto è legato a questo tipo di verità a questo tipo di accettazione della realtà dell'altro bene andiamo a vedere i tarocchi se con i tarocchi riesco a darvi qualche consiglio qualche messaggio in più vediamo che cosa hanno da dirvi ok io intanto vi ricordo che se avete bisogno di contattarmi trovate la mia mail nella descrizione del video allora partiamo con un re di pentacoli un 2 di spade e un 2 di bastoni molto bene allora quello che sento qui è che per certi versi siete fermi in quello che è la vostra stabilità con questo re di pentacoli il re di pentacoli parla di soldi anche lui come l'isola del tesoro quindi sento che per qualcuno si tratta di un qualche tipo di regalo a livello anche di flusso di soldi comunque il re di pentacoli sento che è una persona è comunque un'energia stabile è un'energia di tipo concreta è un'energia che comunque ha una sorta di abbondanza ok il 2 di spade al contrario mi parla di quello che è la risoluzione dei dubbi probabilmente è proprio qua che si riferisce questa carta ma sento che state uscendo comunque dai dubbi state uscendo da quello che sono le paure e infatti finiamo poi con quello che è un 2 di bastoni e il 2 di bastoni parla proprio di quello che è il guardare al futuro il pianificare organizzare è proprio una una carta di proiezione al futuro quindi io sento che tutto questo tipo di movimento si andrà risolvendo tutta questa verità questa cosa di cui parlavamo prima e arriverà quello che è una nuova visione del vostro futuro potrebbe essere anche insieme giustamente perché questa situazione include il matrimonio andiamo a vedere una carta per gli amici dell'ossidiano a fiocco di neve ancora una o due carte da parte delle fatine vediamo cosa vi consigliano ascolto e di nuovo guardate ve la metto qua sopra secondo me questa carta è il centro di tutto quello che è la lettura ok e jolly wow allora ascolto invita ad ascoltare quello che sono gli altri proprio senza interrompere non è sentire quello che hanno da dirvi è ascoltare e mettervi nei panni dell'altro e riuscire a stare zitti fino a quando l'altro non abbia finito di spiegare le cose con rispetto ok per poter avere un qualche tipo di confronto costruttivo e soprattutto l'ascolto è una cosa che va fatta tranquillamente seduti davanti a un caffè senza urlare perché in quel tipo di discussioni poi non si arriva a capo di nulla semplicemente ci si urla una sopra l'altro e non si arriva alla risoluzione jolly la carta del jolly la fatina ha una una chiave in mano quindi è come se vi dicessero avete la chiave per risolvere questo tipo di situazione avete la chiave per fare tutto quello che volete per aprire la porta della felicità sostanzialmente ok devo dirvi che è una bellissima stesa arriverà il tesoro qualsiasi cosa sia per voi il tesoro se per voi il tesoro è un qualche cosa di monetario potrebbe essere che arrivi se è una relazione felice il vostro tesoro dopo diciamo tutto questo tipo di processo sicuramente sicuramente arriverà quindi state tranquilli state sereni respirate ascoltate bene cari amici questo è quello che avevo per voi spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile scrivetemi poi nei commenti se vi è risuonato io vi ringrazio per essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao